Ciao e benvenuto! Prima volta sul blog? Inizia da qui! Se la mattina ti svegli pieno di punture e non sai il perché, se trovi delle macchioline di sangue sulle lenzuola del tuo letto, o se ti stai riempendo di antistaminici ma la situazione non migliora, è molto probabile che tu abbia le cimici da letto in casa. Ma non temere, non è colpa tua che non pulisci bene, semplicemente le hai introdotte in casa involontariamente. Ti voglio dare subito qualche suggerimento utile su cosa non devi assolutamente fare per non peggiorare la situazione. Non spruzzare insetticidi, le cimici sono molto resistenti a questi prodotti. Non mettere fumogini o bombolette fumiganti in casa, non funzionano e rischi solo di farle rintanare ancora di più. E non improvvisare con il fai da te, eliminarle è un'operazione complicata e hai bisogno di affidarti ad un esperto in materia, da solo rischi di peggiorare la situazione. Esiste invece un protocollo efficace e veramente definitivo per risolvere questo problema, in modo ecologico e garantito al 100%. Scarica la guida gratuita qui di fianco e scopri come riconoscere e trovare le cimici da letto, combatterle in maniera efficace ed ecologica, evitare che tornino ad infestare la tua casa, senza intossicarti con inutili prodotti insetticidi che non ti porteranno ad alcun risultato. Scarica ora la tua guida e liberati dalle cimici da letto una volta per tutte.